L'abbiamo catturato dal set fotografico mentre faceva 1, 2, 3 e dei salti Mi avete salvato, perché altro? No, eri fantastico, Alberto Farina, ciao! Ciao, ciao! Com'è andato questo esercizio? Ah, dell'1, 2, 3, cioè, dovevamo saltare, ci facevamo le foto mentre saltavamo e quindi io sbagliavo il tempo, me fotografavano quando scendevo, quindi era... E' una cosa... E non andava benissimo, sono l'unico con le foto seduto Senti Alberto, tu sei Marco, nel film Tiramisu, regia Fabio De Luigi andrà chiaramente al cinema a febbraio 2016, quindi c'è ancora tempo Ci racconti qualcosa del tuo personaggio? Il mio personaggio è un personaggio, si chiama Marco, è un personaggio molto nostalgico quindi con collezione a dischi, è un esperto di vini e c'è questo locale dove lui lavora lì dentro, un locale che si chiama Vini e Vinili dove lui cerca in tutti i modi di fare qualche soldo, ma è un po' così Questa l'ha lasciata la fidanzata, un po' depresso, un po'... Noiava molto bene a Marco, noiava bene Comunque no, però è un bel personaggio, un personaggio che mi sono divertito a farlo poi con la regia di Fabio De Luigi è stata veramente... Poi la sua prima... io sono nella sua prima opera quindi per me è una cosa bellissima il fatto che sono nella sua prima opera cioè sto io, che gli ha a rovino però è una cosa che... Però vuoi mettere poter dire io gli ho rovinato... Gli ho rovinato io, cioè sono l'unico a aver rovinato una cosa del genere quindi sono contentissimo, è una cosa bellissima lui è un regista meraviglioso, è stato paziente con me è stata una persona veramente... ma ha dato un sacco di consigli che io è la prima volta che faccio una cosa del genere quindi per me era tutto nuovo mi ha aiutato, mi ha strellato quindi veramente molto bravo Quindi è anche stato di polso? No, no, veramente, è una persona... figo, figo è sposato, ma è figo Anche te sei stato attratto da Fabio De Luigi? Sì, sì, no, veramente, attratto da Fabio De Luigi dalla sua professionalità, guardandolo in pari cioè una... io mi mettevo lì e molte volte anche non giravo mi mettevo dietro la macchina della presa a vedere lui cosa faceva era... è importante cioè comunque cercare in tutti i modi di vedere un professionista all'opera e Fabio è veramente un professionista serio Dopo una breve interruzione che ci ha distratto, diciamo così senti, tirami su, quindi il nome si riferisce proprio a un dolce il dolce è presente nel film il tuo dolce preferito? Ah, il mio dolce preferito... allora io sono un po' particolare a me non mi piace la cioccolata non mi piace la panna sì, infatti, il mio compleanno mia madre faceva la torta cioccolata e panna ero l'unico che non mangiava la torta, ero io non mangiavo niente perché mia madre cucinava per gli altri in poche parole perché... a me la Nutella non mi piace quindi sono un po' particolare il mio dolce preferito è la torta alle mele quella che fa a mia madre, quella è buonissima e quindi quella me la mangio le... e le meringhe, mi piacciono tanto il resto sui dolci non c'è molto... però mi piace questa roba qua però fa un'eccezione per tiramisù chiaramente per il film... Il tiramisù me lo mangio, il tiramisù me lo mangio non quello col pan di spagna, quello con i savoyardi che è più buono quello me lo mangio, quello sì, quello ce la faccio anche se ho un po' di cacao sopra riesco a sopportare, quello me lo mangio Alberto ti va di invitare tutti quanti al cinema? No, no, dovete venire a vedere questo film prima perché si deve andare al cinema allora questo è fondamentale il fatto che si deve andare al cinema perché è un'azienda che ha bisogno che dovete andare al cinema basta con questo cazzo, scusate, basta con questo internet ma dovete andare al cinema e andate a vedere tiramisù prima perché la prima opera, prima di Fabio De Luigi che diventerà un grandissimo regista quindi per questo andate a vedere il primo film se no dice, che figo Fabio De Luigi, l'hai visto il primo film? No, cioè, no? La gente vi indica, vi indica le persone quindi andate a vedere, tirami su, è un film meraviglioso, stupendo io mi sono divertito un sacco a farlo e poi Fabio De Luigi è veramente bravo poi c'è Angelo Duro, c'è Pippo Franco c'è Stabebo Storti infortunatamente poi arriva Vittoria Puccini che illumina tutto quanto Vittoria Puccini che è veramente, ho visto dal vivo è ancora più bella che al cinema quindi è veramente, è un film andata a vedere perché è meraviglioso poi io andrei a vedere tutti i giorni quindi se mi incontrate ogni volta mi vado a vedere di nuovo perché il fatto che ci sia io è molto particolare Allora, andiamo al cinema incontriamo Alberto ciao, grazie grazie a voi, ciao grazie a voi